E questa è la seconda prova per la qualificazione del campionato italiano, anziani, gentlemen è ovvio, 8 in prima, 3 in seconda e in 11, Tango Bar, Luigi Farina Junior, il più gettonato. Occhio, la distanza è 2.600, il primo a fare l'occhio è il sottoscritto. Arretrato Urojet, imitato da Tuono Cross e anche Ultimo Sun, inizia a prendere velocità la macchina. Alla chiusura, Talpa Jet va al comando, problemi per Uruk del Ronco, e subito il 5 di Tango Bar viene a chiedere strada, è un classico freeway, che passa dopo 200 metri in 3.19, e il Tango per il momento è lui a danzare e a menardanza. Si va al completamento della piegata e anche del quarto iniziale. Quarto iniziale è nell'ordine del 29.8, e ora il Buon Farina doppio zero, può già graduare, e ne approfitta Ultimo Sun, che risale la comitiva, pedinato dal 3 di top model e il 6 di Tuono Cross. Si forma una seconda fila a largo, 45.2, l'andatura però è abbastanza brillante. I cavalli che affrontano la piegata, per il momento non ci sono variazioni sostanziali, con Tango Bar, che ora può amministrare leggermente i birilli, completa il mezzo miglio in un 1.7, 16.5 di frazione. Si migliora Ultimo Sun, va a far pariglia col Talpa Jet, così come Top Model Par. Cavalli di fronte, primo chilometro, vi ricordo su 2006, 17.2. E così i cavalli ora a doppia fila affrontano la piegata, con Tango Bar accompagnato da Ultimo Sun. Un 15 in piegata di fronte, o quasi. Si va al completamento anche di questa piegata, cavalli che si presentano davanti alle tribune all'attacco del giro conclusivo. Ci leggiamo anche questa frazione, è in 16, tranquillissima. Sono 31, i 400 intermedi. Cavalli che vanno a completare il miglio. Miglio da parte di Tango Bar, con Ultimo Sun a largo, in 2, 3, un po' di spiccioli. Si viaggia da 1,17 e il Ganymede di Farine è sempre al comando, sulla penultima curva. Si completa anche questa piegata, passata nell'ordine del 15,6. E Ultimo Sun, sempre di fuori, a Tango Bar. Ora Ultimo Sun inizia a far sul serio. Viene via Tuono Cross, trova Top Model Par, ma lo scavalca. 2,33 il doppio chilometro. Allunga Tango Bar sotto la minaccia dell'avversario. Tuono Cross tenta di prendere la scia di Ultimo Sun. Di dentro è la Talpa Jet. 13,6 di fronte, signori. E ora Tango Bar mantiene il comando. Si va al completamento della curva finale. Talpa di dentro. Retta d'arrivo. Talpa tenta di venire a largo, ma saluta la comitiva Farina. Se ne va per proprio conto. Viene via la grande anche Tom Cruise Trebb con l'ottimo Sorrentino. E mentre Tango Bar parla un'altra danza, la Talpa Jet è secondo. È foto per il terzo. 1,15 e 3. La distanza del 2006, cost to cost prezioso, di Farina doppio zero, Gigafarm personale, i colori, Massimo Finetti, Catello Panico al training. 2,35 la quota. Bene, 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 questo Tango Bar a suon di musica. Vedete? Dovrebbe essere il 6. Tuono Cross terzo. Dovrebbe, attenzione, condizionale, sempre. Linea allo studio.